non sai che mi ricordo? cazzo, che li ha attorta la roba lì? questo è torta così, qualcuno è camminato non c'è i piedi, riccardo quel cazzo dove fa? non c'è i piedi, non c'è i piedi non c'è i piedi era tutto diventito era un po' le carte inizia io pure io non c'è i piedi retro 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 qui lascia il zero perchè non c'è lì 7 è qua sopra 7 è lì sopra io ti faccio tolgo, quello lo lascio lo lascio 8 sinistra fra quello sta lì attenzione un po' di caffratà c'è un rametto in caffalo qui c'è la molletta proprio con questo sceno del gatto e il frumo mi tirano qualcosa se non c'è un po' di caffalo se non c'è un po' di caffalo voglio dire un acciato vado a vedere ma la racciata non c'è Sì, non vi vede. Eh sì. Eh beh. Eh, è un mezzo e manico. Un mezzo e manico. Ok, è una. Questa è la tua. Stavo vedi che è una seconda pista. Seconda prova che c'era. Vabbè, volo la prima. Vai, spostala quella qua. Non ce la si fa. Tutti da qua. Perché l'aria è cascata in mezzo. Ma la mano gli tocca qua un po' e fa. Vabbè. 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 le 5 a destra le 5 a destra portiamoci la sei a sali qua c'è un altro grano che c'è cascato nooo ci metti una vite? una vite che buono non l'avevo visto retro aia la sette ce l'hai alla tua sinistra metti la sopra la otto è lì dietro dove sta Marco attenzione Marco un attimo pure voi per favore Edovardo Marco scusate un attimo togli pure la borsa per favore non 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 grazie non 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 manco l'ultimo, non lo rispondiamo, non lo rispondiamo, non lo rispondiamo, non lo rispondiamo. Non lo rispondiamo. chiedi subito, guarda, Mario bravo, questo è no lo vien, lo vien che devi fare da stelle? la mia è una scheda punta devi chiedere? è una scheda punta andate ad aprire andate ad aprire rimani sulla costa Vieni terzo di me, vieni a destra, piano eh, piano, dritto, dritto, tre, aspetta un secondo perché non è, questa è la seconda tappa, mi sa, Francesco, Francesco, scusa una cosa, guardami, inizia da qua la prima tappa, o da là? La prima inizia da qua, classe 2, qui, vieni, se la prendo. vai vai vieni qua metti il lassadino questa è la seconda prova quella è la prima prova la metta uno e ci stai qua la tuta no? è pronto la plastica e ci stai qua c'è solo il terreno e li trovi e li trovi per usare il ponte non c'è corretto non c'è corretto non c'è corretto e ci stai qua attenzione classico 1 in gara grazie riccardo il vetro tocco? metti la dritta a stu punto la cosa sarà incastrata neanche la mano via 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 occhio mica si è capito come si è cappottato perché si è incastrata con un cazzasso ma prendi il verro è tosta non sa cosa sia strumento non sa cosa sia strumento non sa cosa sia strumento un pochino un pochino un pochino un pochino a scendere qua bravo un trattore cazzo di trazione che c'è una volta che la passi non importa quello si è cappottato dopo anchiappiamo e se la passa cappottata va bene qua bella perfetto ma è che è un pochino che si sta suicidando ma è ancora bello se lo perde un altro vetro oh buongiorno ma si fa sforzare la maria non l'ha sforzata un altro vetro che 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 vai più in alto, vai più in alto, vai dritto fai un verro posteriore, fai bastardieto e tira dritti il culo e lo so quello è vero, dico un pochetto, poco poco si, ok basta, facciamo un bel eh scusavolo WellWeWeWeWeWeWeWeWeBeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWe Scusa Flavio non capisce? ónia , dai certi giudi subito fra attaccato attaccato bravissimo l'ho capito l'ho detto ieri pronto dove un pochino più esterno questa è scivolata risuola però va bene ha preso niente allora fammi sapere dai io avvertemi io comunque sto qua guarda la 2 scusate scusate ragazzi liberate per contesia fate passare ragazzi aspetta ragazzi ciao 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 grazie o giù scendi e risali non perdi tempo Artù allora vai poco poco avanti e gira a sinistra l'angolo di caster che ti aiuta quattro e tre quattro scende cinque a salire non l'ho usato lì lo usi qui è corta cosa è corta è corta si è bucata subito qua capito se non è più larga 4 destra 4 destra 4 destra 4 destra 4 destra 5 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 destra 6 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 destra 7 destra 7 destra 7 destra 6 destra 7 destra 7 destra 7 destra 8 destra se passi la porta qui risulta Sbarro. Sbarro. La. Due. Qua. 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 Sbarro. Questa. Questa è morta. Questa è morta. E in cella, poi. Aspetta, sbrobbola, sbrobbola. Fermo, fermo. Ti fai a palle, sti cazzo dei gol e che... Vai, esci di. Vabbe, tanto ho finito. No. E queste gol e ma non ne posso fare un po' più? Infatti, guarda. proprio degli errori di progettazione dei veri costruzzi